bella a tutti ragazzi da un rex e oggi giocheremo subitissimo a aaaah come vabbè guarda ca a presto 2021 e oggi andremo conto a scuola che non so ne manco il coltizio sta guardando male il mio che cacchio è vediamo questa gente c'è solo Kimmik di forte ah no pure Janik vabbè niente di che pepe serve un po di pepe non non lo voglio il pepe no tenetevi il pepe tutto il pepe che volete ma non lo voglio il pepe il pepe qua sopra fa schifo buongiorno ragazzi comunque ancora un po di tempo che ho visto che il mio video di frekson infuriato contro balde ha aggiunto un sacco di visualizzazioni non credevo che andasse così tanto alto comunque prima di iniziare vi ricordo di iscrivervi al canale e attivare la campanella per tutte le i video che esistono in cui nel mio canale dunque iniziamo iniziamo a giocare noi io ho messo lo sistema dell'italia ho voluto mettere un po gli italiani visto che gli italiani non li calcolano mai nemmeno ho tirato a un signore si chiama pepe il pepe non va bene il pepe fa schifo come abbiamo capito però noi siamo stupidi io sono stupido non so giocare ora mi ok chi cacchio è questo buongiorno ragazzi siete appena svegliati dal letto ok iniziamo l'allenamento no è scemo sono pigliato il polo levandoschi ti picchio sono l'allenatore io di loro di questi stronzi e non credo ne manco che questi stronzi sono miei ovviamente mi hanno scambiato la squadra ora che li tiro ma ma quello che dico mio ma che stanno mancando stanno mancano tutti i tiri ma che l'ho spogliato io raga non mi immagino quelli che l'ho spogliato io li picchio gli prendo le mazze gli spogliato le spocco in testa vedete come sono scemi ma se lo vedono non hanno capito niente perché penso ma a me mi vedono tutto a me mi vedono tutto sereno ma voglio vederli proprio mentre lo spogliato io che fine fanno è una brutta fine avete una roba vestito di di rosso mai visto tutta la mia vita una rumba al psg non serve manca da fare la pipì nene 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 lewandoschi ha potrò 12 euro perché ha fatto un misero gol che dando pure mia nonna lo saprebbe fare attenzione i miei giocatori sono stupidi stanno bevendo droga a volontà imprendibile per qualsiasi portiere ieri io avevo chiappati dentro a un camerino alca al camerini atti cazzo è il numero 18 mi pare sia cazzo è il pezzo di merda che che ha preso così è morto nello spiegato che l'ho uccido pure se poi si fa se ci fa vincere 8 a 0 non lo uccido lo stesso dovremmo ammazzate lo stesso è stupido è brutto è cretino è un pizzone non si dava però pensava allora mi è giocatore ok che sono un po stronti che sono sono un po mezzi scemi ma comunque non è gli avversari che cosa si sono così intelligenti e negli avversari sono intelligenti conosci gli errori professionista airbay l'erba sono già siamo 1 a 0 non ho dimenticato che siamo 1 a 0 io al fattempo sto guardando sui giocatori che che fanno gli stronzi strozzi 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 ok meno pizzette allora ok scarrafaggi ora dobbiamo subito giocare mi sono non sono giocatore sono scarrafaggi sono scarrafuni sono cafuni mandoschi l'ho uccido dopo il camerino per aver fatto un sacco per aver fatto un gol noi dobbiamo perdere questa partita la dobbiamo perdere per andare dobbiamo dare un po di spazio a questi poveri dei che devono andare a giocare contro una squadra forte non è che non c'è io tengo tutto 90 e stiamo facendo gli stronzi e siamo scemi ecco ronaldino palla filtrante per levandoschi levandoschi raga che caccia levandoschi no ho ucciso da levandoschi levandoschi l'ammantaggio caccia ma con la camminata di levandoschi ma se lo vedi nello spogliatoio se la vede con me ho fatto una stronzata ho fatto una stronzata come sei te ah questo si che ha fatto una cosa ma l'ho ucciso lo stesso perché è lo stronzio che ha fatto una stronzata chiesa levandoschi che tentativo ok ora ok ci stiamo ci stiamo pepe eccolo pepe il pepe era sicuro di averla piazzata dove il portiere non sarebbe mai arrivato si sbagliava Fabio però la colpa qui c'è il furo no ok tacchio caccia raga se facevo qualcosì era era bellissimo no come se era un magnale il gol vabbè il portiere è forte fortissimo uccido a quello perché loro non capiscono ogni volta quando perdiamo ogni volta non registro quando perdiamo gli facciano ammazzate dentro allo spogliatoio portano a piangere a volte li distruggo di ammazzate sono stupidi se non meritano andiamo andiamo BBB be 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 va a fanculo a fanculo be 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 va a fanculo be 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 va a fanculo be be si chiama sta scuola dei peppini sono i peppini qua dentro attenzione i peppini sono forti stronzi cretini attenzione la mia squadra sta facendo schifo schifo mi fa vomit mi fai vomitare mi fai cacare hanno messo tutta cosa stupida sicuramente mi pare una mazzata dura ronaldino 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 palla filtrante per l'evento miracolo di Geisler ok chiaccio vero giottac allarga il gioco con pallone a sinistra guarda il pepe guarda il pepe scodella in avanti prova a velocizzare il gioco con la verticalizzazione raccoglie un passaggio dalle retrovie scuola no come mi sono maniato il gol no raga scuola è morto scuola è morto non ci a voi va che stupidi siete stronzi Borussia Dortmund ma non c'è il Dortmund non ci sta il Dortmund Arambu io sono Mancini Mancini Ludovica allora andiamo 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 insieme a Giappetto vai abbiamo fatto cagare nel primo tempo abbiamo fatto cagare gli elefanti e ora dobbiamo far calcare pure a istru inizio a secondi 45 minuti 45 minuti un solo gol di differenza sta decidendo il match deve buttare dentro un cross ha tirata pensavo che era gollo raga a volte ah però mi giocava sono inglesi un po' la vita ok devo tirare con lo scemo là dietro lungo passaggio in avanti non sta pigliando la palla voglio capire pianici pianici perché va piano sembrava che stessero per concretizzare un'azione iniziata bene dovranno riprovarci ando vai via palla palla vittante lewandowski la palla mi sa che si ha calcio d'angolo no no ma come è possibile la toccata il giocatore non è uscito ok il giocatore è un nostro non so perché la palla l'ha toccata mi faccio mazzata ma arbitro mi ha spinto ma mi ha chiedono buona maglia che sta 10 mila euro mi ha chiedono mi ha chiedono la maglia la maglia la giocatore è accattata tutto scende per le maglie e mi ha rovinato così ma io mi sento buona ah un secondo beh De Bruyne De Bruyne De Bruyne si mangiano una palla di merda vabbè però De Bruyne è buono in quella De Bruyne è il capitano ma è schifo allora ora stanno avendo più possesso palla i miei giocatori sono dei dei sono forti sono stronzi di quello che si può avere si ferma qui la manovra chiesa cerca lo spunto ecco Lewandowski a sinistra con il passaggio Kimmi Roca la gioca sulla destra De Pablo elegante scatta verso il pallone bel passaggio di ritorno grande intervento vale come un gol fallo fallo bravo a me non fa niente se non mi dava fallo però dunque alla prossima scorrettezza ci sarà il cartellino l'arbitro l'ha avvisato ora non può più permettersi di fare falli azzardati se non vuole beccarsi un cartellino deve fare molta molta attenzione Lewandowski no ho sbagliato ha sbagliato ha sbagliato Lewandowski è morto ok allora raga ogni volta io dico che i giocatori si prendono una mazzata nello sfogliato io però è vero se la prendono sempre se vincono si sono sempre di mazzate sempre ho visto che chi sarà si ma se boh vabbè vabbè mi riguarda un altro calcio da come si scende bravo tornando c'è un campione allora mi chiamo mi chiamo mi chiamo ha avuto un riflesso felino che in pochi si aspettavano forse nemmeno i suoi compagni De Bruyne oggi ci ha fatto vedere le sue abilità di assist ecco Lewandowski un'entrata in scivolata da manuale sventa la minaccia Pjanic preconquista la palla prova il filtrante da lì può segnare un intervento impeccabile ah bravi ah sono giocati con i miei giocatori bravissimi allora la mazzese l'avendo lo stesso quindi ci fanno giocare bene palla filtrante per Lewandowski Lewandowski e il palo salva il portiere ottimo disimpegno fondamentale stanno cercando di chiudere la partita facendo un altro gol il Dortmund non riesce a trovare barchi nonostante il possesso prolungato decidono di giocare il Dortmund c'è la palla lunga in avanti non ho capito qual è il Dortmund quello è caduto a terra a caso bravo Driesen Driesen chi cazzo è uh pallo attenzione chiesa non ho fatto male a chiesa ottima chance con questo calcio di punizione possono far male Scholes è un grande riflesso qui spraio alla situazione palla a Scholes circa lo spunto no quando va c'è un'occasione non mortisci qua scatta verso il pallone sulla fascia è libero passaggio sulla destra torna a Roma pigliate che la palla direi che adesso è il recupero del recupero l'alicante deve resistere ancora a qualche istante bella apertura no no è possibile non era fuorigioco ma perché libero allora il fuorigioco perché lo calcolano pure se poi c'è dopo 5 minuti quindi la ritornano indietro ok abbiamo vinto poi si è dottuto l'abbiamo vinto ha vinto i miei giocatori hanno fatto bene però mi ha ammazzo dentro allo sfogliatoio attenzione chiesata diventerà più forte devo ammazzare chiesa perché chiesa non lo sopporto non so scemo com'è possibile un aldigno vabbè un aldigno non è che ha fatto molte cose eh niente una 4.000 ok qualcuno lo devo rinnovare sicuramente mancini no ok ho fatto quello che era giusto sta a posto sta a posto sta a posto inoltre delle 20 partite futuro spaccato oseas 1 a 1 4 a 1 ok 4 li ho distrutti ok attenzione ragazzi abbiamo vinto la partita poi c'è strontizio quello che ti merito ok allora sto dicendo a voi ragazzi ma sto dicendo a sti scemi ma io allora ok che hanno vinto la partita a me non me ne frega niente poi sono scemi sono scemi per me sono scemi poi non me ne frega niente domandosi 99 è una pippa perché abbiamo vinto solo 1 a 0 e fa schifo quindi ragazzi comunque niente grazie per aver visto il video e se volete vedere altri video di questo genere li farò sempre iscrivetevi al canale cliccate la campanellina per non perdervi ne manco un V un manco oh raga un manco uno e ci vediamo con un prossimo video ciao ragazzi